se non lo slamiamo è grosso l'abbiamo visto saltare due volte storionazzo adesso un bel video in diretta se lo guadiniamo apprendiamo il studio in canna si incazzatone 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 dopo due mega salti fuori dall'acqua aia piega la paura questo fa sudare potremmo saltiremo in qua un po' è cazzito è cazzito il tipo sta grattando sta grattando da qualche parte allora la magica da fare e passare sotto 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 Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 vedere è incazzatone il tipo mi permette di tenere la frizione così chiusa perché ho visto che pesce è se no non lo farei mai è sicuro che è grosso permette che non so neanche se ci sta dentro il guadino forse forse è cotto no no non è cotto quando decide fa quello che vuole questo ragazzi questo fa quello che vuole va davanti alla secca Ecco davanti alla secca, con i due belli infrascati. Ragazzi lo tiro fuori e lo faccio dopo il video, anche qua mi sa che sarà dura. Eccolo, eccolo, eccolo là, davanti alla punta del canetto, lo vedete, lo vedete il petardino. Non c'è nessun 1.0. Non c'è nessuno. Eh già, è lui. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.